La cosa è anche logistica e in parte anche magica Perché se tu fai vedere le foto di Arcadia che c'è una testa Dai da capo Una persona ogni 100 metri quadri E invece fai vedere che è fatta in un palazzetto chiuso con tutte le cose Non è bello, è staccato Alla fine non è che ci fossero stasso a quanti C'erano 800 persone Ma erano tutte le stanze che erano Mi ditevi te Mi ditevi te Mi ditevi te Mi ditevi te